Il Paese e Luigi Potestà l'ha ditta l'assessore delle guardie, e per invito a il fiampaccia a ridurre, la guardia ha fatto un ricorso a Luigi Potestà, e Luigi Potestà l'ha ditta l'assessore delle guardie, Luigi Potestà l'ha ditta l'assessore delle guardie, e Luigi Potestà l'ha ditta a me, e io me lo dici a voi, se no passo di garabiniere, per tagliare la guerra, e per far morire, la vita è capisciuta, la vita è capisciuta, e se la vita è capisciuta, non cambia.